semplicissimo abbiamo il kit completo gruppo motore naturalmente andiamo allentare la vite a taglio che si presenta qui con semplicissimo cacciavite taglio si va a prendere il primo tubo con vissato come vediamo ha il suo apposito scanso lo andiamo a inserire e successivamente andiamo a stringere col cacciavite come vi dicevo prima la vite per bloccare il tutto e qui abbiamo fatto inserire la seconda bocchetta semplicissimo al suo apposito scanso e siamo ok e qui abbiamo preparato tutto andiamo a riempire con la sua apposita miscela eccoli prima accensione ripeto andiamo quattro pompate al carburatore per farle arrivare la miscela andiamo a inserire tasto on sulla parte superiore andiamo a tirare l'aria prima accensione lasciamo stare sul giallo come potete vedere per andare a passarlo successivamente e questo e quant'altro